Anche quest'anno la Regione Calabria è presente in fiera a supportare le proprie imprese artigiane e quanto affermato dall'assessore allo sviluppo economico, internazionalizzazione e attrattori culturali, Rosario Varì, il quale ha espresso piena soddisfazione per la presenza di ben 123 aziende calabresi alla Kermess Internazionale, artigiano in fiera 2023, che si svolge dal 2 al 10 dicembre a Fiera Milano Ro. Quest'anno ha sottolineato Varì un vero e proprio record, sono molto soddisfatto delle numerosissime presenze, indice di crescita e sviluppo della nostra Regione, oltre che della consapevolezza degli artigiani calabresi delle opportunità che questa vetrina offre per la promozione dei nostri prodotti di eccellenza. Questa significativa partecipazione dei nostri artigiani, ai quali rivolgo un sentito ringraziamento e un augurio di buon lavoro, ci consente di raccontare con più voci le loro grandi capacità imprenditoriali, l'alta qualità della materia prima dei nostri prodotti, ma anche i nostri territori, la loro bellezza naturalistica, artistica e la ricchezza culturale. Il Governo regionale, guidato dal Presidente Roberto Occhiuto, è e continuerà ad essere al vostro fianco, con tante misure incentivanti a supporto dei vostri investimenti. Nonché con l'attività di promozione delle eccellenze calabresi, attività che, unitamente all'assessore dell'agricoltura Gianluca Gallo, sosteniamo in maniera significativa. La Calabria, ha concluso l'assessore, rivolgendosi agli artigiani presenti e ai numerosissimi visitatori, è davvero uno scrigno di arte, bellezza e cultura, e creatività la vostra. Grazie a tutti.